Dopo i risultati ufficiali e definitivi dell'autopsia, le tesi più accreditate per la morte di Silvia Crosetto, l'insegnante di 44 anni di Moncalieri, trovata senza vita lo scorso 14 luglio al passo del Ginestro, sono quelle che la donna sia stata investita o da un pirata della strada o da un animale di grossa taglia. Il referto autoptico parla infatti della presenza sul corpo della donna di traumi riferibili a un colpo da investimento. La tragedia è avvenuta purtroppo in una zona dove non sono presenti telecamere di sorveglianza che possono inchiodare con certezza il colpevole, sia esso essere umano o animale. I carabinieri di Imperia avevano acquisito i filmati di telecamere presenti in altre zone lungo il percorso seguito dalla Crosetto la mattina del 14 luglio, ma senza trovare riscontri circa possibili pirati della strada. Ora si attendono ancora le analisi del RIS di Parma sugli abiti della Crosetto per verificare l'eventuale presenza di tracce biologiche utili a svelare quanto accaduto realmente. La donna era partita da Andorra per far ritorno a casa e si era poi fermata al passo del ginestro vicino a Cesio, era scesa dall'auto e aveva attraversato la strada. Il suo corpo era stato poi trovato ormai privo di vita dal sindaco di un paese vicino che era di passaggio.